ciao a tutti nella lezione di oggi impareremo ad usare l'effetto stroke come vedremo questo effetto è molto simile alla proprietà trim paths degli shape layer però non è solo utile a disegnare delle linee colorate ma soprattutto come vedremo diventa utile perché può essere usato come maschera per disegnare qualsiasi oggetto sul quale applicato benissimo quindi cominciamo subito con un esempio aggiungo alla composizione questo elemento ornamentale ricciolo doppio e naturalmente se volete usarlo anche voi per provare l'effetto potete scaricarlo dal link che troverete nella pagina del tutorial bene prima di applicare l'effetto disegneremo con lo strumento pennino il tracciato che poi l'effetto seguirà per disegnare l'oggetto quindi prendiamo lo strumento pennino avviciniamoci un poco di più e immaginiamo di dover disegnare questo ricciolo partendo da questa zona qui e terminando in questa zona qui quindi adesso io disegno una sequenza di punti semplici è l'importante che questi punti seguano il percorso che poi si vorrà seguire per disegnare l'oggetto benissimo adesso che abbiamo un tracciato che tecnicamente come si può vedere nella timeline è una maschera adesso gli possiamo applicare l'effetto stroke quindi andiamo nel menu effetti nella categoria generate applichiamo appunto stroke eccolo qua e adesso come possiamo vedere nel primo parametro dell'effetto path qui l'effetto è associato alla maschera 1 e se guardiamo più da vicino possiamo vedere che lungo il tracciato della maschera l'effetto ha applicato una linea bianca ora per poterla vedere meglio rispetto allo sfondo gli cambiamo il colore quindi veniamo qui nei parametri dell'effetto e modifichiamo il parametro colore da bianco a rosso quindi clicco sulla palette colori e applico un rosso che si vede bene adesso aumentiamo lo spessore di questa linea lavorando sul parametro brush size che al momento è su 2 e quello che dobbiamo fare noi è far sì che lo spessore della linea copra interamente il disegno sottostante quindi aumento ancora un po di più io direi più o meno fino a questo valore qua naturalmente se c'è bisogno si può modificare la posizione dei punti della linea bene ora scendiamo nei parametri fondamentali che sono start ed end identici a quelli che si trovano come dicevo prima nella proprietà trim pass degli shape layer e servono a trimmare la testa e la coda di questa linea cioè se io per esempio lavoro sullo start cancello la linea partire dalla testa fino alla coda e se lavoro sull'end cancello la linea partire dalla coda fino alla testa bene adesso facciamo apparire i parametri dell'effetto nella timeline quindi facendo doppio clic sull'effetto facciamo apparire i parametri nella timeline bene adesso al tempo zero accendiamo l'orologio del parametro end in modo da far partire il disegno della linea in questo caso possiamo disegnare la linea in un paio di secondi quindi prendo il cursore lo porto fino a due secondi circa nella timeline e adesso porto il valore di end a 100 per cento facciamo una preview come potete vedere in due secondi la linea rossa si disegna ma noi non interessa vedere il disegno di questa linea rossa ma simulare soltanto il disegno dell'oggetto che sta sotto e per ottenere questo dobbiamo modificare l'impostazione dell'ultimo parametro dell'effetto che è paint style al momento vedete che è impostato su on original image e questo significa che il risultato finale è che io vedo sia la linea rossa sia l'oggetto sottostante se invece di on original image imposto questo parametro su on transparent a questo punto succede che il contenuto del livello sparisce diventa trasparente rimane soltanto la linea rossa ma anche questa opzione non è quella che interessa a noi quindi l'opzione che interessa a noi è la terza che è reveal original image proviamo a impostarla a questo punto la linea colorata sparisce però viene usata come maschera per far vedere la linea sottostante se io faccio una preview come vedete adesso ho finalmente ottenuto quello che mi ero prefissato fin dall'inizio cioè sto simulando il disegno di questo oggetto benissimo già che ci siamo prima fare anche un animazione sulla proprietà start quindi prendiamo il cursore lo allineiamo con il keyframe finale della proprietà and facciamo partire la proprietà start cliccando sull'orologio e dopo altri due secondi quindi a quattro secondi portiamo lo start al cento per cento e quindi a questo punto ho cancellato tutto il disegno dalla testa fino alla coda se faccio una preview in due secondi disegno l'elemento in altri due secondi lo cancello poi sappiamo anche che se prendiamo i due keyframe dello start e li anticipiamo durante l'animazione del land non disegnerò tutto quanto l'oggetto ma soltanto una porzione benissimo adesso facciamo un secondo esempio nel quale utilizzeremo più di un tracciato allora eliminiamo il ricciolo doppio che non ci serve più lo seleziono lo cancello e questa volta come oggetto da disegnare usiamo un testo quindi prendo lo strumento testo e scrivo mg le iniziali di motion graphics allarghiamo un po di più il testo e con lo strumento pennino avviciniamoci un po disegneremo un tracciato per la lettera m poi un secondo tracciato separato per la prima parte della lettera g partendo da qui fino alla parte discendente poi un ultimo tracciato che disegnerà soltanto questo tratto finale che chiude la lettera allora incomincio da questo punto qui e unendo vari punti lineari cerco di seguire al meglio il percorso della lettera m bene ora per interrompere il disegno di questo tracciato e disegnarne un secondo basta che selezioniamo il livello testo nella timeline quindi ci clicchiamo sopra adesso quando riprendo usare il pennino partendo da qui vedete che disegno una seconda maschera separata dalla prima di nuovo stiamo bene attenti a seguire il meglio possibile il tracciato bene ora questo secondo tracciato è concluso quindi di nuovo interrompo la disegno dei tracciati cliccando sul livello testo e ultimo tracciato questo tratto orizzontale che chiude la lettera bene adesso selezioniamo il livello testo e applichiamo l'effetto stroke quindi andiamo di nuovo nel menu effetti categoria generate effetto stroke impostiamo il colore come prima da bianco a rosso in modo che si veda meglio quindi clicco sulla palette del colore imposto rosso e aumentiamo lo spessore per vedere meglio la linea come vedete in questo momento l'effetto si sta applicando soltanto al primo tracciato ma noi vogliamo applicarlo a tutti e tra i tracciati e questo succede perché il parametro pat è impostato sulla maschera numero 1 come c'è scritto qua e se apriamo questo menu a tendina come vedete io posso anche scegliere la maschera 2 se voglio e a questo punto l'effetto si applica la seconda maschera oppure alla maschera 3 però fin qua l'effetto si applica solo una maschera alla volta se io voglio applicarlo a tutte le maschere contemporaneamente allora non devo scegliere le maschere da questo menu ma devo spuntare la voce all mask che al momento è spento quindi accendendo qui a tutti quanti i tracciati viene applicata la linea rossa bene ora aumentiamo ancora di più lo spessore in modo che le lettere sottostante vengano interamente coperte dal tracciato rosso se c'è bisogno come al solito spostiamo i punti e in questo caso c'è bisogno di spostare questi punti qua benissimo dire che così va bene ora noi andremo a lavorare sulla proprietà end portando dal valore 0 al valore 100 e come vedete si disegnano sequenzialmente le tre linee questo avviene perché al momento è spuntata la voce stroke sequentiali se noi spegnessimo questa voce qui e lavorassimo ancora sulla proprietà end come vedete adesso la situazione è diversa le tre linee si disegnano contemporaneamente ma non è quello che serve a noi quindi riaccendiamo la voce stroke sequentiali cioè disegna tutte le linee in sequenza bene ora creiamo l'animazione quindi doppio clic sull'effetto stroke evidenziamo i parametri nella timeline portiamo il cursore al tempo 0 lasciamo l'end a 0 accendiamo l'orologio avanziamo col cursore questa volta direi un 4 secondi quindi ci fermiamo qui e portiamo la proprietà end a 100% magari ammorbidiamo anche i due keyframe questa volta quindi li seleziono e con semplice f9 gli diamo un ammorbidimento normale benissimo ultima cosa noi non vogliamo vedere la linea rossa ma vogliamo usarla come maschera per far vedere le lettere sottostanti quindi nel parametro paint style cambiamo l'impostazione dalla prima voce on original image alla terza reveal original image a questo punto se facciamo una preview come vedete si disegnano le lettere ecco in questo caso c'è un piccolo problema in questa zona qua come vedete mentre si sta disegnando questa porzione della lettera già si vede una parte della linea soprastante quindi spostiamo questi due vertici qua in modo che non vadano a disegnare in anticipo la parte soprastante e poi anche in questa zona qui spostiamo questo vertice più a sinistra in modo che non faccia apparire troppo in anticipo la linea che va verso il basso e facciamo la preview ok direi che ci siamo l'ultima cosa che potremmo fare è fare una pausa tra la fine del disegno della m e l'inizio della g quindi se ci mettiamo nel punto dove termina l'animazione della m cioè esattamente in questo momento possiamo aggiungere un keyframe qua in modo che il disegno rallenti e poi riacceleri a partire da questo punto e per farlo basta che veniamo a sinistra del parametro end e clicchiamo sul simbolo dei keyframe quindi cliccando qua si è aggiunto un keyframe e siccome ha applicato l'is is quando l'animazione arriva qui rallenta un attimo e poi riparte e la stessa cosa direi anche di farla al termine del secondo tracciato cioè in questo momento qui aggiungiamo un altro keyframe in modo che c'è un attimo di rallentamento e poi riprende il disegno vediamo se l'animazione è migliorata un po' è un poco meglio rispetto a prima ok magari questi due keyframe qui il secondo e il terzo li potremmo ammorbidire ulteriormente rispetto al semplice f9 quindi li selezioniamo e con la palette controllo is is possiamo impostare un valore non troppo alto intorno ai 40 50 riproviamo di nuovo benissimo quindi anche questa lezione termina qua e ci vediamo alla prossima ciao